La mia avventura è iniziata nella cantina di casa, è cominciata ad avere spasione. Stiamo parlando degli ultimi anni 70, producevamo dei kit, si chiamavano play kit, che poi andavamo avendo nei mercati radioamatoriali tipo Mantua, Pescara, Pordenone e poi da lì abbiamo cominciato abbinare dei prodotti di elettronica e guarda a caso erano un tira di trasmittente in Midland.